Hola squadra, bentornati in questo nuovo video, sarà molto 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 corto però era solo per avvisarvi che domani alle 16.00 quindi alle 4 sarò in live su youtube con Roblox e Brawl Stars ci dovete essere per forza, proprio per forza, quindi non perdetevi impegni per domani alle 16 dovete esserci, lasciate un like a questo video e anche alla live che ci sarà domani questo video ormai è durato pochissimo perché devo dirvi solo questo ma niente, iscrivetevi, attivate la campanellina, per questo video dobbiamo superare i due like lasciate un like e niente, hola squadra